da parte mia volevo dire io una cosa che è il punto, il centro del problema è questa presenza delle persone e queste prante che anzi magari sono così numerose sognare che ci siano proprio i reparti che ci siano proprio i ruoli almeno che è essenziale qual è l'ecologia, la rianimazione l'ortopedia queste cose essenziali da un incidente da qualcosa che è come essere più comune ci fosse essere un servizio completo che ci accoglievo in giro queste che siano pensare qui perché abbiamo certamente qualcuno lo facciamo a notare abbiamo l'eroismo di qualche bene che fa turni e generosità e ci mette il cuore e non tolpe la notte allora noi siamo in uno stato titili paghiamo le tasse ci mette il cuore e allora noi della carità della passione del cuore dell'eroismo ne abbiamo bisogno ma prima di tutto abbiamo bisogno di un servizio che ci è dovuto e senza il disagio di dire io dipendo dalla carità di Tizio o dall'eroismo di me allora sui che ne vanno questo io credo che si può avere l'attesa di aprire un portone non otturiamo la porta che non respiriamo più invece parla che e perdone non vorrei sbagliare che lei magari come dire vada sposta il discorso su quello che si sta facendo e che si deve fare sulla realtà invece che è difficile ci dia come dire delle soluzioni adesso immediate ci raccomando anche le esigenze che ci sono adesso io mi sparo i sonchi ci sono vecine che si sta canедra allora anche per te perché io ti metto si voglio per te se grazie 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 Volevo dire fino a dove arriva la sua autorità e quanta autorità c'è a lei in qualità di capo dell'aspetto d'Italia e come? Poi mi deve rispondere, mi deve rispondere a tutti i cittadini, con quante persone lei può assicurare i servizi visto il confederato che può fare, a tetto che c'ha, la cardiologia, l'onometria, la chirurgia, quando ha un solo elemento per ogni servizio. Ora, mi deve dire, se ci vuole un servizio che possa funzionare a 100% ci deve essere trovato in grado, è previsto. Per il personale che si interna, che deve fare licenza o una malattia, che deve essere sostituito, eccetera, eccetera. Dici, qui abbiamo la servizio di cardiologia, la chirurgia, abbiamo l'ortopedia, abbiamo la ginecologia, non ci sono ben come io non ho assicurato. E quando come oggi dice che per il mantello l'elicottero non può partire, e mamma, mamma, il padraterno può fare più tardi. Di fare caldare il vento, o il mantello, o si assicura il servizio sanitario, o il malattia, che lei se è un medico che potrà dire, uno che diviene una fibrillazione, viene ricoverato. Ti fanno la mutua, ti fanno la terapia, o il terrestre, o il terrestre, o il terrestre, o il terrestre, manda la carta, o il cardiologo è assente. Questo è successo a me personalmente, dottore D'Alema, a me personalmente, per mettere il corpo, la prima volta sono stato male, ma non è un cardiologo, abbiamo un altro cardiologo che non ha avuto la settimana. E se io maggioravo, chi mi dovrebbe accettare? Chi dovrebbe intemperare, a dire, viviamo, non ne ricordano, ricoveriamo anche qua. Quindi i medici che abbiamo sono i rovi, non chi vuole rimanere qua, è perché hanno il territorio, che vuole rimanersi per la cittadinanza. Ogni soldi non si risolvono i problemi, si risolvono solo con le mani, con le volontà, e con chi è che vuole rimanere qua. Quando si faranno i contratti, come sono stati fatti i contratti, lei di votare qualsiasi incentivazione alla persona, se non vuole venire a partenere, non ci verrà. E' un'altra cosa, perciò non resta la seconda lega. Lei ha le capacità o l'autorità di sportare un medico come ha detto, un salvatore. E' 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 un salvatore. Perché lei è il capo del dito.